Alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione del sindaco pescatore Angelo Vassallo, per tenere viva la memoria del suo impegno contro speculazioni e illegalità, Lega Ambiente ha presentato i numeri di Mare Monstrum, il report sul mare violato e minacciato in Italia e in Abruzzo dall'aggressione criminale all'ambiente. Nel 2022 accertati 19.530 reati ambientali lungo le coste italiane in crescita rispetto al 2021. A farla da padrone il ciclo illegale del cemento, seguito dall'inquinamento del mare, dai rifiuti alla mala depurazione e dalla pesca di frodo. Attenzione all'Abruzzo, cresce infatti l'incidenza delle infrazioni per chilometri di costa e il Sare al quarto posto della classifica nazionale. A illustrare i dati il presidente del Gambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco e Silvia Tauro. La particolarità del dato abruzzese è l'alta incidenza dei reati, perché laddove quindi il valore assoluto ci pone a metà classifica rispetto ai valori nazionali, l'incidenza dei reati ci dice che lì invece l'Abruzzo ha una concentrazione di illegalità diffusa e capillare, che lo mette al quarto posto nella classifica, con un'incidenza quindi che l'avvicina pericolosamente a quella delle regioni a tradizionale infiltrazione mafiosa. Quali sono i reati più diffusi? I reati più diffusi restano quelli legati al ciclo del cemento, quindi abusivismo, cave illegali, occupazione abusiva del demanio marittimo. L'Ega Ambiente fa al governo Meloni otto proposte per tutelare in maniera più efficace lo straordinario patrimonio ambientale dei nostri mari e delle nostre coste, dalle demolizioni affidate ai prefetti, delle case abusive e agli investimenti sui depuratori fino alla notta alla pesca illegale. Quello che l'Ega Ambiente propone, soprattutto quindi per rispondere ad esempio ai reati del ciclo del cemento, è la possibilità quindi normativa di abbattere le opere abusive ad opera dei prefetti, laddove dei comuni emettano quindi le ordinanze di abbattimento ma poi non provvedano. E ancora una volta arginare il fenomeno dell'occupazione del demanio marittimo, non solo quindi per la tutela ambientale ma anche per garantirne la fruibilità ad opera della cittadinanza. Per quanto riguarda invece ovviamente il ciclo dei rifiuti, quindi una corretta gestione e l'integrazione con il ciclo idrico, permette di risolvere i problemi di inquinamento e di intervenire normativamente per arginare quindi tutti i fenomeni legati all'illegalità della pesca.